Quando pensi ai metalli preziosi, qual è il primo che ti passa per la mente? Scommetto che prima penserai all'oro e poi forse all'argento. Ecco, l'argento viene definito anche come l'oro dei poveri. È un metallo bianco, duttile, malleabile e soprattutto è il materiale più riflettente che ci sia. Una particolarità dell'argento è che uccide i germi in maniera genuina. Infatti ha delle proprietà antibatteriche e antimicotiche che gli permettono di uccidere i germi che possono generare malattie e infezioni. Infatti non è un caso se i greci utilizzavano i recipienti in argento per mantenere fresca l'acqua. Invece durante la prima guerra mondiale i fogli d'argento venivano applicati sulle ferite dei soldati per evitare che si formassero delle infezioni. Ma oltre alle proprietà antibatteriche, l'argento ha anche altri vantaggi. Infatti è il miglior conduttore di calore ed elettricità, più di qualsiasi altro metallo esistente. Anche l'oro e il rame hanno un'ottima conducibilità elettrica, però non sono alla pari dell'argento. Diciamo che fra oro e argento ci sono innumerevoli differenze. Una fra queste riguarda l'andamento del loro prezzo negli ultimi 50 anni. E questo lo possiamo vedere all'interno di questo interessante grafico che adesso andremo a vedere. Il grafico arancione riflette l'andamento dell'oro, mentre quello blu riflette il prezzo dell'argento. Il primo gennaio del 1970 l'oro valeva 35,18 dollari per oncia, mentre l'argento 1,63 dollari per oncia. Ma alla fine degli anni 70, nel pieno dello shock petrolifero, il prezzo dell'oro raggiunse un massimo storico di 850 dollari, mentre l'argento raggiunse un picco di 49,45 dollari per oncia. Le oscillazioni sono rimaste abbastanza tranquille durante gli anni 90, per poi riprendere a correre dal 2008 al 2011, a causa della crisi finanziaria globale che ha scosso la fiducia nelle valute e nei mercati azionari. Dopo il 2011 l'oro ha continuato la salita verso il raggiungimento di un nuovo massimo storico, nel 2020 a 2,069 dollari per oncia, mentre l'argento, sfortunatamente, ha visto una ricaduta del 50% dai massimi del 2011. Il prezzo di questi due metalli preziosi è influenzato da fattori differenti. Durante le recessioni, quindi durante i crolli economici, l'oro, storicamente parlando, sovraperforma l'argento, perché è un bene rifugio per eccellenza. Gli investitori si rifugiano nell'oro per salvaguardare il proprio patrimonio e fuggire dagli asset più rischiosi come possono essere le azioni, mentre l'argento tende a fare meglio dell'oro durante i periodi di espansione economica. Questo deriva dalla sua applicazione. L'oro infatti non ha molti usi industriali, anzi ne ha pochissimi, quasi nulli. Invece gli usi industriali dell'argento sono molto più elevati. L'argento durante le espansioni economiche tende a sovraperformare l'oro perché la domanda cresce per questa materia prima ma di conseguenza questo trascina verso l'alto anche il suo prezzo. Ma come viene impiegato questo metallo prezioso a livello globale? Quali sono gli usi nei diversi settori del mercato? In questo interessante grafico, che è datato 2019, possiamo vedere proprio questo aspetto. Come dicevo, il grafico è di qualche anno fa. Tuttavia i dati riportati non dovrebbero discostarsi troppo dai dati odierni, quindi relativi al 2022, in quanto il 2023 è ancora in corso. Dunque il 47% dell'uso globale di argento va attribuito all'industria, in particolare al settore elettronico ed elettrotecnico. Il 18% invece viene impiegato nella gioielleria per la produzione di gioielli come orecchini, collane, braccialetti, anelli e così via. Invece il 17% della domanda globale di argento va attribuita agli investitori, che detengono argento fisico sotto forma di monete, lingotti e altri oggetti fisici. Il 9% invece va attribuito al settore dei pannelli fotovoltaici, che è molto importante e tra poco vedremo. Il 6% della domanda globale di argento invece è nelle mani del settore dell'argenteria, quindi mi riferisco a cucchiai, coltelli, forchette per servire e mangiare il cibo. Infine il 3% è nelle mani del settore della fotografia, che sfrutta l'argento per produrre macchine fotografiche. Quindi, come abbiamo potuto appena vedere, circa il 50% della domanda globale di argento va attribuito al settore industriale. Questo materiale, questo metallo, ha un ruolo chiave in settori come quello delle auto elettriche. Pensa che la maggior parte delle connessioni elettriche nelle auto elettriche impiega l'argento, grazie alla sua elevata conducibilità elettrica e resistenza alla corrosione. Oltre a questo, viene impiegato enormemente anche nel settore dei pannelli fotovoltaici, grazie al fatto che riesce a convertire l'energia solare in energia elettrica. Secondo alcuni studi, nei prossimi anni, più in particolare nei prossimi 30 anni, quindi entro il 2050, la maggior parte delle riserve di argento verranno impiegate nel settore dei pannelli fotovoltaici. Come tutti noi sappiamo, il futuro è green e considerando quanto sia importante energia rinnovabile, è chiaro che la domanda per l'argento tenderà ad aumentare sempre di più e questo potrebbe trascinare verso l'alto il prezzo di questa materia prima. Personalmente, sto pensando seriamente di aggiungere una piccola percentuale di argento al mio portafoglio di investimenti, in ottica di diversificazione. I suoi innumerevoli usi dal punto di vista industriale e medicale sicuramente porteranno su il prezzo nei prossimi anni barra decenni. Tuttavia, non mi aspetto di diventare ricco investendo solo e unicamente in argento, sarebbe sbagliatissimo. Secondo Robert Kiyosaki, che sarebbe l'autore di Padre Ricco, Padre Povero, sicuramente ne avrai già sentito parlare, sicuramente lo conoscerai, l'argento entro il 2027 potrebbe arrivare a valere come prezzo tra i 100 e i 500 dollari per oncia. Insomma, sono delle previsioni piuttosto gonfiate e generose, ma dobbiamo realmente fidarci di queste previsioni? Assolutamente no, non ti fidare perché nessuno è in grado di prevedere con precisione chirurgica quello che accadrà in futuro a un particolare asset. Quindi io non prenderei la leggera queste previsioni, ma sarei più razionale e più conservativo nel valutare questo tipo di investimento in ottica di rendimenti da paura. Secondo il mio umile parere, l'argento non è un asset con cui si possono fare rendimenti da capogiro e sbarcare il lunario. Più che altro è una forma di protezione, di copertura del proprio patrimonio. Devi sapere che il dollaro dal 1971 ad oggi ha perso circa il 95% del suo valore, mentre l'argento è cresciuto da un valore di 1,6 dollari per oncia nel 1971 a circa 24 dollari per oncia nel 2020. Io comunque mi aspetto che nei prossimi anni il suo prezzo possa andare su per tre semplici ragioni, che sono la scarsità, infatti è un metallo prezioso piuttosto scarso, non è scarso quanto l'oro che è scarso circa 19 volte rispetto all'argento. Tuttavia ce n'è poco di argento e sicuramente questo fattore ne favorirà il suo prezzo in futuro. Il secondo aspetto è legato alla crescente domanda dal punto di vista industriale. Addirittura ho letto che attualmente c'è una domanda record per questa materia prima. Oltre a questo, il terzo fattore che potrebbe trascinare verso l'alto il suo prezzo riguarda il depreciamento del dollaro, che continuerà per questa strada purtroppo e che favorirà asset come l'argento e come l'oro. Comunque queste sono solamente le mie personali riflessioni e quindi per favore non le prendere come consigli di investimento. Fammi sapere invece la tua, tu per caso hai mai valutato la possibilità di esporti in questo tipo di investimento? Cioè di aggiungere un po' di argento al tuo portafoglio per diversificare i tuoi asset? Fammelo sapere qui sotto che sono sempre molto curioso di capire come si muovono le persone che seguono il canale. Per oggi è tutto, grazie per la visione, io ti saluto e ti mando un grande abbraccio. Alla prossima, ciao!